14 problemi strutturali, uno per ciascuno dei 13 istituti penitenziari piemontesi più una problematica generale comune a tutti. Li ha segnalati il coordinamento dei garanti piemontesi delle persone detenute in una lettera indirizzata al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e illustrata in una conferenza stampa a Palazzo Lascaris. Abbiamo presentato stamattina una richiesta dettagliata e puntuale di interventi sulle strutture penitenziarie piemontesi. 13 carceri che hanno ciascuno un problema specifico. Noi abbiamo fatto un appello forte a Santi Consolo, al DAP, al Proveditorato regionale affinché si intervenga sulle strutture per permettere un'esecuzione penale diversa, più umana, più corrispondente alla Costituzione.